brevemente perché i ragionamenti che ci porgerà questa sera Enrico Facco si situino alla perfezione all'interno del contesto del progetto Archetipon, del nostro seminario permanente sugli archetipi letterari. Il titolo dato a questa serata, a questa seduta, è Esperienze di premorte tra scienza e pregiudizio, col che già ci ambientiamo all'interno di un posizionamento sospeso tra il profilo, come dire, clinicamente e scientificamente catafratto di Facco e la sua apertura a una visione non meccanicistica, aperta alla considerazione di tematiche guardate alle volte con sospetto da chi ha una visione angusta, ristretta, tradizionalmente occidentalistica, non occidentale, della della medicina e dei ragionamenti in questa in questa circostanza specifica su esperienze di soggetti in prossimità dell'exitus o di chi ritenuto morto ritorni in vita, raccontando delle esperienze eliminari, delle esperienze transizionali di passaggio. Si tratta d'altra parte di esperienze che hanno una forte vicinanza con altri momenti importanti, insomma, di quella che potremmo definire la perdita di coscienza, il disordine percettivo, la disarticolazione del pensiero cosciente. Certo Enrico Facco, soprattutto nel grande volume, nella splendida monografia che compendia le sue ricerche su questo tema, che d'altra parte sono continuate, distingue bene, profila in modo ben perimetrato e con esattezza analitica, descrittiva, le condizioni patologiche e gli stati inquadrabili entro coordinate cliniche che riportano a questa dimensione di premorte. Però è indubitabile che queste esperienze siano almeno in qualche misura avvicinabili ad altri stati, ad altre condizioni. Quella per esempio di chi ha assunto sostanze psicotrope, quella della transizione sonno-veglia, l'attività onirica, gli stati indotti dall'ipnosi, le allucinazioni, le visioni, ma anche gli stati di trance, le condizioni estatiche, le esperienze mistiche. Naturalmente tutte queste esperienze possono essere, sono discernibili, possono essere delimitate, possono essere circoscritte e definite con precisione, ma presentano anche delle vaste zone intersezionali. Sono per certi aspetti esperienze impure che talvolta si meticciano l'una con l'altra interfecondandosi e che non sempre possono essere separate con assoluta nettezza. Forse l'unico modo di separarli in modo abbastanza netto è quello di ragionare per esempio sulla distinzione molto forte che esiste fra esperienze riportabili all'accidentalità, esperienze subite, esperienze occasionate per esempio da traumi, patologie o da una perdita di controllo consapevole o inconsapevole, e invece la ricerca cosciente del deragliamento, cioè l'esperienza procurata, preparata, indotta ritualmente, controllata, quindi quelle disarticolazioni del pensiero cosciente che sono legate per esempio alle tecniche dell'estasi, alle pratiche mistiche o ad altre forme diciamo di lavoro sulla coscienza che portano a un dissolvimento delle barriere tradizionali e al raggiungimento di zone dell'oltre, dell'altrove psichico. Questa forse mi sembra la distinzione più netta fra i generi di esperienza che avevo tentato prima con una specie di tassonomia molto semplificata e molto triviale a dettagliare in successione. Per il resto, come dicevo, ci sono larghe zone di sovrapposizione, almeno mi sembra che si possa dire così. Ma forse i due elementi, e non vi ruberò molto tempo ancora, ma forse i due elementi più vicini diciamo al nostro seminario e al modo in cui abbiamo inteso diciamo ragionamenti su oggetti, argomenti di studio molto lontani, sono probabilmente quelli che nelle esperienze di premorte si riportano a due elementi. Quello dell'immaginario, quello che definirei diciamo iconico visivo e contenutistico, naturalmente con un caricamento simbolico molto forte, è quello delle forme espressive. Cioè da un lato abbiamo diciamo delle figurazioni ricorrenti che emergono nel dossier documentale elicitato da pazienti ospedalieri o da persone che hanno subito gravi traumi e che raccontano queste esperienze eliminari. Queste figurazioni ricorrenti le conosciamo bene, alcune erano anche compendiate abbastanza bene all'inizio con un tentativo diciamo di realizzazione cinematografica in un vecchio film di Clint Eastwood, insomma abbiamo il tunnel, immagine iniziatica per eccellenza, le luci, i suoni generalmente in composizioni e realizzazioni armoniose e melodiose che rinviano diciamo all'immaginario dell'armonia del mondo, la revisione panoramica come in un lampo, in una specie di accecante e sintetica moviola della propria vita, l'assincronismo, cioè tutte le slogature del tempo che possono andare nel senso dell'accelerazione ma talvolta anche del rallentamento e del ristagno rispetto al tempo metronomico, al tempo cronografato. Ecco, questi elementi ricorrenti certamente hanno una forte vicinanza con gli elementi dell'immaginario che riportano le esperienze dell'aldilà anche nelle loro declinazioni letterarie, nelle loro rappresentazioni diciamo legate ai cammini dell'oltremondo. E anche qui sicuramente abbiamo a che fare, almeno così mi pare, con dei fenomeni impuri, con dei fenomeni in cui noi possiamo ritracciare da un canto degli universali psichici che saremmo tentati di considerare come manifestazioni in purezza, come schemi transculturali, quindi come nuclei archetipici riportabili probabilmente insomma a degli strati profondi. E d'altra parte questi elementi spesso nella loro narrativizzazione, nel modo in cui vengono costruiti in un racconto omnestico dell'evento di premorte, vengono rimodellati in rielaborazioni che li impastano certamente con influssi culturali, con elementi che appartengono insomma a un'esperienza e a un vissuto che si danno anche socialmente sul piano di riferimenti culturali. Quindi anche in questo caso diciamo niente si dà veramente in purezza nel momento in cui si concreta e finisce per essere materiato in un'esperienza di racconto. E non di meno questi nuclei archetipici sono irraggianti e presenti e mostrano e sono riconoscibili spesso come invarianti insomma nella documentazione clinica. E poi c'è la questione delle forme espressive che è altrettanto importante, anzi cruciale per noi. Da un lato direi avendo a che fare con una realtà aumentata, intensificata, potenziata, con una vita più vita, portata ai gradi estremi, esasperata in forme dell'eccesso, trovandoci di fronte insomma a questi fenomeni, a una saturazione, a un'amplificazione, abbiamo spesso a che fare con una retorica dell'intensità che talvolta però si ferma, che talvolta si ferma di fronte all'inesprimibile. E allora può anche subentrare una topica dell'ineffabile, che alle esperienze estreme può avvicinarsi soltanto o mediante una specie di silenzio, di formidabile ristagno della verbalizzazione, di resa della parola, oppure con adibizioni metaforiche, potenti, coraggiose, con slogature della lingua che alludono alla disarticolazione del pensiero, entro delle forme appunto dell'eccesso, dell'excessus mentis, che possono darsi in alcune circostanze come faticosa restituzione di un'esperienza ineffabile, insomma, la cui intensità diventa oggetto più di una quasi dolorosa contemplazione nel segno di un distacco nostalgico che come possibilità concreta di una restituzione in una qualche forma verbalizzata. Ecco, tutto questo mi sembra perfettamente in taglio, perfettamente in tono con, diciamo, le prospettive del nostro seminario e ancor più forse lo è un esito molto importante che il professor Facco sottolinea molto spesso anche nella sua monografia e che gli ho sentito ripetere alle volte anche a voce, insomma, e che mi sembra anche cruciale dentro la logica, insomma, della permanenza della vibrazione archetipale, cioè la dimensione trasformazionale di queste esperienze. Queste sono esperienze che si determinano in contesto clinico, in contesto patologico, ma queste esperienze di premorte finiscono per avere un effetto metamorfico, trasformativo e spesso decisivo, radicale nel rappresentare un punto di svolta dentro l'esistenza e la postura esistenziale del soggetto. Questo è un elemento, diciamo, di matrice, di ascendenza, di struttura, direbbe Eliade, iniziatica, che mi sembra decisivo all'interno di questi ordini di ragionamenti e all'interno di queste esperienze, insomma, di persone che hanno viaggiato, davvero, in una zona transizionale, periclitante e estremamente arrischiata. Forse, anche se si tratta di esperienze alle volte non volute, non cercate, ma subite per via di un incidente, di un politrauma e via dicendo, si tratta comunque di una delle forme più avventurosamente vicine, diciamo, a un cammino iniziatico che possano capitare ad un uomo. Quindi sono particolarmente felice di dare la parola al professor Facco che di queste esperienze è stato uno degli studiosi più originali, più intensi, appunto con una prospettiva che, come dicevo, tiene assieme in modo al tempo stesso rigoroso e molto suple, una preparazione accademica, specialistica, di carattere clinico e dall'altra parte un'apertura che mi sembra un po' rozzo definire umanistica, ma che voglio dire è largamente antropologica e con una sensibilità che lo mette nelle condizioni di scavalcare, diciamo, l'angustia di prospettive fisiologico-meccanicistiche troppo caute, diciamo, troppo pavide nell'affrontare la dimensione profonda di questi eventi così carichi di simbolismo, di occasioni, di possibilità e di rischio. Gli do senz'altro la parola e lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Grazie Alvaro, grazie Sofia per la bellissima presentazione e sono felicissimo di essere qua con voi a condividere queste cose. L'argomento è vastissimo e così vedete si vede lo schermo, sì? Perfetto. E quindi faremo un breve sintetico viaggio negli aspetti più importanti di queste cose. Poi l'argomento delle esperienze pre-morte come diceva giustamente Alvaro si collega strettamente a tutti quelli che sono stati chiamati con un pessimo termine stati alterati di coscienza che è un termine fuorviante perché fa pensare che la coscienza ordinaria sia l'unica cosa buona e tutto il resto sia alterato e in realtà io ho ribattezzato come espressioni non ordinarie della mente e ci sono come diceva giustamente Alvaro grandi link fra tutte queste esperienze e tutto questo è quell'unica mente umana che è in grado di fare tutte queste cose in circostanze o con stimoli diversi in cui fa cose diverse con molti tratti simili in funzione di qual è il contesto e l'obiettivo quando siano poi esperienze evolute intenzionalmente fatte. Allora le esperienze di pre-morte sono esperienze soggettive ovviamente come tutte le esperienze molto intense e molto profonde che avvengono in condizioni critiche con pericolo di vita o anche solo emotivamente percepito come tale quindi è l'area la sensazione di essere in un momento critico a volte però vengono anche in condizioni totalmente fisiologiche delle esperienze cosiddette NDA-like e anche al di fuori di qualsiasi pericolo anche percepito quindi ci sono tre d'union anche con cose che non hanno niente a che vedere con le condizioni critiche con perdita di coscienza però le NDA propriamente dette NDA sta per mia data experience avvengono in condizioni critiche con perdita di coscienza quindi c'è di mezzo il limite e l'imminente fine della propria vita l'eziologia emotefice perché si va dall'arresto terniaco che sono quelle più studiate in letteratura e ce ne sono ormai migliaia di casi o l'embolia polmonare acuta l'anestesia generale raramente ma anche durante interventi chirurgici in anestesia ci sono avuto un caso anch'io traumi di diversa origine e nella fine dell'ottocento è interessante che sono state studiate le esperienze da cadute in montagna ad alta quota da un alpinista svizzero e che riportava questo scenario così interessante di aspetto trascendente possono essere annegamenti possono essere annegamento può essere come nel film quello di Clint Eastwood che ha citato Alvaro le vittime di terremoti incidenti di strada qualsiasi trauma importante in cui l'esperienza di ND è proprio quella più strettamente detta e chi è ha perso la coscienza come la intendiamo ordinariamente sono state descritte anche nel tentato suicidio e a proposito di aspetti trasformativi nei report che sono peraltro retrospettivi del tentato suicidio l'effetto principale dell'esperienza di premorte è quello che ha fatto passare la voglia di suicidarsi rendendosi conto che era una scelta sbagliata quindi molto terapeutica da questo punto di vista qui poi può succedere anche nei pazienti in corso di emodialisi anche se lì non c'è nessuna condizione di tipo critico a volte ma sono casi rari durante crisi epilettiche ma c'è stata poi vedremo i lavori che hanno tentato di associare le esperienze di premorte a fenomeni epilettiformi che fossero residuati dal trauma ma non c'è nessuna evidenza poi ci sono esperienze simili che sono le visioni sul letto di morte cioè non è il paziente in condizioni critiche acute ma chi è nella fase terminale della vita queste erano state studiate anche da Sir William Barrett alla fine dell'ottocento quando c'è stato questo grande interesse per i fenomeni psichici per lo spiritismo cui ha partecipato anche Lombroso disgraziatamente conosciuto solo per l'idea dell'atavismo criminale che è diventata la sua icona ma è stato un grande ipnotista e uno studioso anche di fenomeni paranormali oppure anche come vi dicevo in condizioni fisiologiche magari possono essere condizioni fisiologiche in un aspetto critico dal punto di vista esistenziale cioè per esempio transizioni di ruolo come durante una crisi come può essere un divorzio o importanti cambiamenti esistenziali quello che è interessante è anche che possono avvenire anche in età pediatrica anche molto precoce e questo è interessante perché i bambini non hanno un'idea chiara di cosa sia la morte e non hanno elaborato una visione filosofico religiosa di un minimo di consistenza qual è la fenomenologia allora ognuno ha la sua esperienza ma ci sono dei grandi temi che sono ricorrenti e che sono quelli più più frequenti qui sulla destra vedete il famoso la famosa scesa all'empire o di Bosch che rappresenta perfettamente il tunnel con la luce in fondo alla fine della morte allora le sensazioni sono per lo più di grande pace e tranquillità di grande benessere anche se esistono delle esperienze di premorte molto meno frequenti che hanno dei toni chiamiamoli tra virgolette infernali con sensazioni negative o spiacevoli c'è l'attraversamento di un tunnel tra i temi ricorrenti con o senza una luce in fondo un'esperienza di uscita dal corpo ovvio sta per auto body experience spesso associata alla visione dall'esterno del proprio corpo inanimato e sottoposto alle cure da parte del personale sanitario dopodiché si entra in uno scenario di tonalità trascendente in cui la luce non è assimilabile a quella del sole né a quella della luce artificiale generalmente è piacevole si potrebbe dire paradisiaco in uno stato di profonda serenità anche se possono esserci elementi a volte spiacevoli o stressanti può esserci percezione di suoni o musica e un incontro con altri esseri spesso sono persone care decedute a volte anche persone non conosciute dal paziente farò vedere un caso molto intrigante entità che sono spesso indefinite o definite come spiriti o esseri di luce nel senso che ci sono anche chi vede figure come da noi santi o Gesù Cristo o la Madonna o tutto il resto ma questo è molto meno frequente sono per lo più descritti come entità non definite e queste le vedono anche chi si dichiara ateo la comunicazione che si ha con questa entità o con le persone care decedute è diversa da quella ordinaria e definita spesso come telepatica c'è una revisione panoramica della propria vita in un lampo uno rivede tutta la sua vita ma non le cose importanti tipo la laurea al matrimonio la carriera sono fatti di vita di tutti i giorni che però per il paziente hanno evidentemente una qualche rilevanza spesso succede non in tutti i casi che sia la percezione di un limite o anche un divieto comunicato dall'entità o dai parenti incontrati che impedisce di proseguire il viaggio e per cui uno rientra nel proprio corpo spesso malvolentieri perché dove stava stava benissimo questa è una cosa che tipicamente succede per esempio a una giovane madre che ha bambini piccoli in cui gli viene detto la tua missione non è finita devi tornare indietro hai altro da fare non è il momento di stare qua ancora alla ripresa della coscienza ordinaria spesso c'è un sentimento di disagio spesso con il rimpianto della condizione vissuta durante l'esperienza di premorte e anche alcuni pazienti hanno avuto desiderato profondamente per lungo tempo di vivere la loro esperienza in ipnosi ci sono degli studi fatti anche su questo d'altra parte svegliarsi dopo un trauma grave vuol dire risvegliarsi in rinimazione pieno di tubi di scappamento cateteri eccetera non è certo una cosa piacevole l'esperienza di premorte era molto meglio da questo punto di vista un'altra cosa interessante che sono ben ricordate anche a distanza di vent'anni con una grande stabilità dei ricordi contrariamente a quello che ci aspetterebbe dagli episodi avvenuti in condizioni critiche nel delirium in rinimazione è tipica l'amnesia dopo il paziente non ricorda più nulla queste vengono ricordate e vengono ricordate anche per vent'anni con una grande stabilità e quindi con meno intrusioni di paramnesie di rielaborazioni eccetera i pazienti che io vedo a volte magari sono esperienze fatte tanti anni prima e mi dicono me lo ricordo come se fosse oggi esattamente identico come l'ho vissuto all'epoca e i soggetti che hanno avuto l'esperienza di morte non hanno maggiore tendenza rispetto ai controlli di produrre falsi ricordi né più proni a fantasticare rispetto a chi non ha avuto questa esperienza quindi non c'è un tratto di personalità così preciso o una tendenza speciale ad avere fenomeni di questo genere ora i ricordi come ricchezza e intensità sono uguali o superiore a quella dei ricordi di esperienze reali e correlano questi ricordi con l'intensità dell'esperienza di premorto e vissuta c'è una scala che è la casa di Grayson scala di Grayson che ha 32 punti che prende in considerazione con un punteggio tutti gli elementi principali dell'NDE quindi si può fare anche una quantificazione dell'intensità dell'intensità del rapporto del paziente e questi ricordi sono diversi dai ricordi di eventi immaginati c'è uno studio di Palmieri che guida l'Università di Pado facoltà di psicologia ma altri due studi di Marziale e di Tonnard in cui questi ricordi sono associati a aumento dell'attività nella banda teta che è un marker della memoria episodica e nella banda delta indice di ricordi del passato ma anche degli stati di transe e anche di altre esperienze transpersonali però diciamo il pattern elettroencefalografico è più simile a quello di un ricordo episodio di cose vissute realmente che non di qualche cosa di immaginato o fantasticato e quindi vengono riportati come episodi autobiografici reali in una condizione non ordinaria di coscienza l'aspetto interessante è anche che sono esperienze simili in tutto il mondo almeno nei loro cardini fondamentali in tutte le culture a tutte le latitudini ci sono diversità di carattere etnico per esempio tra i mapoce e gli hawaiani l'esperienza di premorte l'incontro con i parenti viene riportato come luogo dentro il cratere di un vulcano perché questo è il loro ambiente ma gli elementi fondamentali dell'esperienza rimangono quelli come per esempio negli buddhisti in Ayana c'è una maggiore preoccupazione del fatto che sei uscito dal corpo e magari di vedere i tuoi futuri genitori cosa che potrebbe facilitare la rincarnazione quindi sono degli elementi che sono di carattere etnico ma il diciamo il nucleo fondamentale dell'esperienza è universale l'incidenza si pensava istintivamente fino a vent'anni fa che fossero cose sporadiche rare riducibili a un fenomeno di disorientamento del paziente legato al danno cerebrale in realtà sono abbastanza frequenti perché si va nelle diverse casistiche tra il 5 e il 18% durante arresto cardiaco fino al 26% nel tentato suicidio anche se questa è meno attendibile perché si tratta di report retrospettivi mentre invece su arresto cardiaco abbiamo degli studi prospettici controllati bene quindi sono relativamente frequenti il fatto che non se ne sia mai parlato è perché tutto ciò che non è ordinario che è fuori dalla norma non viene neanche riferito nei medici lo chiedono e i pazienti si guardano bene da riportarle anche se hanno una bisogno di comunicarle per cercare di comprenderne e integrarle nella loro esperienza di vita per paura di essere presi per essere disturbati dagli esiti del trauma e ho avuto due pazienti molti anni fa che avendo raccontato la loro esperienza al medico di base questi erano messi sotto antidepressivi e ansiolitici dicendo che era una conseguenza del trauma e che erano ancora disorientati senza aver capito assolutamente nulla di quello che era il vissuto del paziente e il fatto che siano esperienze trasformazionali come diceva giustamente il professor Barbieri poco si presta a farle pensare come un passivo fenomeno di disfunzione organica cerebrale hanno un significato profondo ed hanno profondi cambiamenti nel comportamento e nella visione della vita tra cui quello che domina come prima cosa è la paura e il superamento della paura della morte tanto è vero che adesso si sta cominciando a studiarle e usarle proprio per curare la paura della morte le ansie pocondriache perché se riesci a rievocarle in ipnosi puoi anche lavorarci sopra sul piano terapeutico ora questi cambiamenti che sono in linea di massima positiva perché uno magari apprezza di più i valori importanti della vita diventa più empatico più rispettoso dei valori e delle altre persone meno incline agli aspetti materiali della vita possono dare origine però anche a disturbi post-traumatici da stress connessi con con il trauma o a disturbi post-traumatici come problemi familiari e sociali connessi col cambiamento per esempio ho avuto un ragazzo dico ragazzo perché io sono purtroppo molto più vecchio di 42 anni che aveva avuto due infarti aveva avuto anche due esperienze di premorte che non è frequentissimo che succeda e lui aveva superato completamente la paura della morte aveva cambiato completamente atteggiamento nei confronti della vita diventando molto positivo e non affannato solo dalla carriera dal denaro eccetera però aveva uno stato ansioso depressivo reattivo che l'ho messo un po' in terapia ma il problema non era per l'esperienza di premorte ma per il fatto che aveva avuto già due infarti e temeva di non avere il tempo sufficiente nella sua vita per poter portare a termine il suo cambiamento e fare quello che adesso ritenereva importante fare quindi cosa completamente diversa tra i problemi familiari è da insegnare che c'è il rischio di aumento di divorzi e di separazioni dopo questa cosa perché? perché le cose si vivono in due in coppia se uno cambia voi immaginate una coppia molto materialista e molto dedita al denaro e al benessere materiale in cui il marito comincia a avere interessi filosofici interessi culturali diversi vedere le cose da una prospettiva diversa da quella di prima se la moglie non lo capisce e non lo segue chiaramente le strade si separano quindi diventa la sindrome del mio marito non è più lo stesso da quando ha avuto l'arresto cardiaco e questo comporta problemi che possono essere oggetto anche di terapia sia personale sia di coppia come lavoro di reintegrazione di questa esperienza nell'economia della propria esistenza no? Allora come spiegarle? perché il fatto è innegabile ormai sono descritti oltre 3.000 casi anche molti di più il problema è come interpretarli questa è la cosa più più critica no? Allora la prima semplice spiegazione di natura più meccanicistica è un fenomeno intrapsico di natura onirica o allucinatoria prodotta dal danno cerebrale però se voi guardate la fenomenologia del sogno dell'allucinazione del delirium da disturbi organici è totalmente diversa da quelle delle NDE perché il sogno lo conosciamo tutti per esperienza diretta ha uno statuto diverso è fatto di elementi diversi che si combinano in maniera un poco comprensibile no? Mentre nell'esperienza di premorte il racconto è chiaro coerente ben raccontato non ha nessun aspetto di quello che è il linguaggio dei sogni le allucinazioni hanno la caratteristica principale di essere di dare la convinzione assoluta della verità di quello che uno ha visto nel delirium la fenomenologia è completamente diversa perché nel delirium che è ben conosciuta in terapia intensiva per effetto di farmaci droghe lesioni cerebrali eccetera il delirium è una accozzaglia caledoscopica di impressioni frammentarie diverse in un contesto di grande angoscia che il paziente dimentica completamente come il delirium finisce quindi non c'è un solo punto in comune come fenomenologia tra il delirium e le esperienze di premorte poi l'altro aspetto invece importante che è un perno di questa tematica è la capacità di mantenere la propria identità la percezione la coscienza mentre si è formalmente privi di coscienza in arresto di circolo sistemico perché noi sappiamo che nel giro di 20 secondi leggi diventa piatto non ci sono manifestazioni di coscienza che noi possiamo vedere poi non è proprio tutto così adesso vedremo qualche dettaglio in più e infatti ci sono singoli casi sono rari ma ci sono e bastano questi per cominciare a dover riflettere seriamente sul problema di pazienti che hanno avuto questo auto body experience durante l'arresto cardiaco e hanno testimoniato quello che è successo nella sala di rianimazione mentre lo rianimavano e loro erano con gli occhi chiusi in apparente morte imminente no? in assenza di circolo che è una cosa che è abbastanza contrastante con quello che sono le nostre concezioni classiche di fisiologia cerebrale questo è un esempio di un'esperienza abbastanza intensa un punteggio di 22 su 32 ed è una mia paziente e vi fa vedere come siano esperienze a volte potenzialmente testimoniabili il problema è che per farlo dovete essere in tempo reale saperle poter verificare tutto altrimenti non lo fate più allora c'era in sala operatoria in anestesia durante un intervento ginecologico a un certo momento ho visto come se mi trovassi in un angolo della stanza questi medici che intervenirono sul mio corpo hanno cominciato a dire così la perdiamo sostanzialmente durante questo intervento ginecologico hanno fatto per errore una lesione della orte questa stava avendo uno shock emorragico abbastanza importante tuttavia non mi sentivo io mi sentivo in uno stato di benessere straordinario guardavo la scena come se quel corpo non mi appartenesse non avevo paura né dolore niente di tutto questo a un certo punto mi sentia attratta verso un'altra chiamiamola dimensione perché non saprei come altro chiamarlo mi sono improvvisamente ritrovata in un posto con dei prati verdi non avevo abiti ho preso a camminare su questi prati avvertivo il piacere di camminare ma avevo come l'impressione di non avere un corpo c'era un ruscello d'acqua l'acqua scorreva veloce non era trasparente ma blu avevo un'intensa sensazione di benessere ho iniziato a guardarmi attorno per vedere se vedevo qualcuno ma non vidi nessuno c'erano solo questi prati e questo ruscello l'acqua scorreva da sinistra verso destra ho iniziato a guardare da dove provenisse l'acqua e girandomi verso sinistra ho visto una luce molto intensa mi sono incamminata verso la luce sentivo un benessere incredibile sarei rimasta in questo stato a un certo punto senti una voce maschile che mi disse non è il momento mi è apparso il voto di mia figlia che è vivente e all'epoca aveva due anni e nonostante l'attaccamento di una madre o una figlia non volevo tornare indietro poi senti la voce dell'infemera che disse mi scusi aprì gli occhi e vedi che mi stava cercando una veba senza riuscire a trovarla ero appena uscita dalla sala operatoria e ricordo di non aver avuto nessun dolore post-operatorio quando sono tornata cosciente ho spiegato a un medico quello che avevo visto quello che era successo quindi anche la lesione della orta e come erano intervenuti e il medico si è arrabbiato molto chiedendomi che fosse stato a dirmi quello che era successo la paura di una possibile denuncia e di una sequela medico-legale e pensavo a questo che un infermiere avesse spifferato quello che era successo in sala operatoria invece me poteva interessare di meno allora questo qua è un caso che potrebbe essere potenzialmente testimoniabile il problema è che io l'ho saputo qualche anno dopo che era successo e quindi non ho più trovato nel medico che non lavorava più in quell'ospedale e né magari il personale si ricorda più i dettagli di queste cose che non sono parte dei punti fondamentali dell'assistenza clinica allora ci sono diverse ipotesi che sono per lo più di matrice meccanicista riduzionista per spiegare i meccanismi di base dell'esperienza di pre-morte però dobbiamo considerare adesso le vedremo tutte quante una dietro l'altra quali sono le interpretazioni scientifiche disponibili distinguere tra ipotesi fatti e dimostrazioni perché sono tre cose molto diverse e gli aspetti epistemologici e possibili pregiudizi scientifici ad essi correlati perché una visione strettamente materialista meccanicista non può ammettere nient'altro che quello che è compatibile con gli assiomi che ha adottato ovviamente allora la prima è un'ipotesi di ischemia retinica concentrica che possa dare la visione del tunnel ma questa ipotesi è stata presa dal fatto che nei piloti che hanno sottoposto che sono sottoposti accelerazioni G possono avere questa ischemia retinica che portano all'estituzione del campo visivo durante le picchiate fortissime ora questo mi sta bene se il paziente fa un'esperienza di premorte di caduta ad alta montagna ma non mi sta bene se fa un arresto cardiaco sul suo letto fermo immobile né se fa un trauma cranico di quelli con coma improvviso perché lì prima si ferma il cervello prima ancora che l'ischemia possa fare un'eventuale ischemia concentrica e dare al cervello gli spunti e gli input per crearsi questa immagine quindi è una cosa che va bene benché vada come ipotesi limitata alla visione del tunnel ma solo per chi ha cadute da alta quota le altre cose sono esperienze di altre ipotesi sono di disfunzione cerebrale dovute o all'acidosi sistemica e lo shift ionico cellulare tra potassio e sodio ma questo non c'è nessuna dimostrazione è un'ipotesi e uno studio dice che al massimo potrebbe essere un trigger ma non è certo responsabile di un'esperienza così articolata un'altra ipotesi era un danno eccitotossico da liberazione incontrollata di glutamato che è il principale mediatore eccitatorio del cervello ma e questo ha portato Jensen a fare un'ipotesi della chetamina che è un anestetico generale anche usato come come droga così da carattere voluttuario ed è un allucinogeno fondamentalmente però lo stesso Jensen dopo aver portato avanti per anno questo modello di glutamato e di chetamina dice beh al massimo potrebbe essere un elemento che favorisce l'esperienza ma non c'è nessun neurotrasmettitore che ti fa fare un'esperienza tantomeno un'esperienza articolata come quella che avete sentito dire un'altra ipotesi è quello dello squilibrio dei neurotrasmettitori come per esempio gli opioidi e c'è qualcuno che sostiene ma si sa benissimo che gli opioidi endogeni aumentano in condizioni di stress come nell'emorragia acuta eccetera e siccome gli opioidi sono sedativi possono dare questa pace questa tranquillità eccetera ma è un'ipotesi non è una dimostrazione che crolla di fronte al fatto che anche questi sono solo un aspetto della possibile sedazione ma se fosse così noi dovremmo avere esperienze di premorte a tutto a lei nei pazienti che fanno opioidi per terapia del dolore come per esempio nel cancro mentre nessuno ha nessuna esperienza del genere e se hanno esperienze legate a un effetto psicotipo degli opioidi questo è un delirium agitato non è un'esperienza di premorte quindi non c'è nessuna relazione tra il delirium gli opioidi e le esperienze di premorte alcuni studi hanno fatto un'ipotesi di connessione con scariche epilettiforme ma sono state smentite da studi successivi quello che è interessante sono le analogie fra esperienze di premorte ed effetti degli allucinogeni perché gli allucinogeni se usciamo dall'uso ricreativo sono usati da sempre fin dalla preistoria nei riti di passaggio e in tutte le esperienze non ordinarie ora c'è per esempio l'uso dell'iboga nella religione Buiti in Congo dove nel rito di passaggio all'età adulta vengono usate viene usata l'iboga per indurre una sorta di esperienza di premorte ma in questo conta molto anche la ritualità stretta e controllata e lo scopo dell'esperienza non è solo l'iboga gli ultimi dati fanno vedere alcuni elementi interessanti di Tredugnon tra la N-metiltriptamina e la scusate la dimetiltriptamina ed esperienze di premorte però sono sempre corrispondente corrispondenze parziali in cui l'allucinogeni può favorire queste esperienze poi le esperienze possono essere diverse nessuno all'allucinogio fa fare un tipo di esperienza stereotipato che sia quella e solo quella e l'esperienza dipende dalla personalità dal luogo dalle intenzioni dalla dose e dallo scopo dell'esperienza quindi c'è una variabilità ovviamente le intrusioni di episodi tipo sonno-rem da sogno non ci stanno per niente perché può succedermi se io sono in fase di addormentamento e faccio un'esperienza non ordinaria ma certamente non in un arresto cardiaco non c'è il tempo tecnico perché possa succedere questo un qualche cosa di più interessante di più aderente alla neuroanatomia e neurofisiologia cerebrale è il coinvolgimento del giro angolare destro che è qui nel confine tra regione parieto temporale e le auto body experience perché questa è una regione che integra tutte le afferenze multisensoriale e anche le integra una prospettiva di prima persona di come io sono dove sono rispetto all'ambiente che percepisco e una disregolazione di questa esperienza di questa struttura cerebrale potrebbe favorire un cambiamento di prospettiva rispetto al proprio corpo anche se i dati sperimentali che abbiamo sono molto parziali anche qui poi i meccanismi psicogeni delle teorie psicanalitiche degli anni 70 80 sulle aspettative dell'aldilà reggono poco perché anche chi si dichiara ateo ha queste esperienze non c'è molto tempo per creare un'esperienza di questo genere e direi che sono così rimangono molto molto labili come idee no? Allora in conclusione tutte queste ipotesi complessivamente implicano obbligatoriamente che i disordini cerebrali siano la condizione ossine qua non per le esperienze di premorte ma le esperienze simili a quelle di premorte come anche del resto le esperienze mistiche e le altre che ha già citato il professor Barbieri avvengono anche in condizioni fisiologiche quindi la premorte può essere un buon trigger potente un buon stimolo ma non giustifica le esperienze e il loro contenuto e il loro significato quindi non c'è nessun fattore organico specifico alla base delle esperienze di premorte e il contenuto e tutte le potenzialità metacognitive trasformative escludono che siano di natura meramente disfunzionale e prive di significato allora è difficile dimostrare che uno possa mantenere la coscienza pur essendo in arresto di circolo completamente quindi senza perfusione cerebrale no però qualche studio c'è e soprattutto studi prospettici ben controllati e ben fatti l'ultimo studio del 2014 lo studio AVER fatto da Parni e da altri è uno studio multicentrico questo vi fa vedere qual è la difficoltà di riuscire a diciamo descrivere questa esperienza è uno studio su 2000 pazienti in arresto cardiaco di cui ovviamente i sopravvissuti sono 16% solo 330 sopravvissuti di cui quelli intervistati sono 140 perché quando uno finisce l'arresto non è che ritorna necessariamente in condizioni buone che possa permettere di fare una buona narrazione di questi 85 non avevano alcun ricordo altri 55 è una percezione di coscienza ma non necessariamente NDE quindi ricordi parziali non NDE non caratteristiche dell'NDE quattro avevano NDE senza ricordo di essere stati in arresto cardiaco quindi non ben diciamo che non potessero testimoniarle e due che avevano NDE con ricordi dell'arresto cardiaco di aver visto la scena di questi uno è stato verificato e l'altro non è stato verificato perché nel tempuscolo che va dal primo racconto alla verifica col personale di tutti i dati storici questo paziente si è deteriorato e non sono più riusciti a completare la verifica della documentazione e testimonianza dei dati quindi sostanzialmente noi abbiamo che le esperienze quelle ricordate come potenzialmente testimoniabili sono 1,4% in questa casistica e lo 0,7% quelle che sono state testimoniate fino in fondo e che si è riusciti ad arrivare alla conclusione pochissimo molto poco ma molto intrigante perché mette in discussione le nostre conoscenze classiche questo è il caso stavo rispondendo all'infermiera ma sentivo una forte pressione all'ingmine pressione non dolore solo una reale forte pressione come se qualcuno stesse spingendo su di me e stavo ancora parlando quanto all'improvviso io non c'ero devo aver perso conoscenza ma poi posso ricordare vividamente una voce automatica dire shock the patient shock the patient e con questo in alto all'angolo della stanza c'era una donna che mi chiamava con un cenno non posso ricordare che pensavo tra me e me e posso ricordare scusate che pensavo tra me e me non posso andare lassù ma lei mi chiamava sentivo che mi conosceva sentivo che potevo fidarmi di lei e sentivo che lei lì era per una ragione non sapevo quale fosse e un secondo dopo ero lassù guardando giù me l'infermiera e un uomo con la testa pelata non potevo vedere la sua faccia non potevo vedere la sua schiena era piuttosto tarchiato avevo un camice chirurgico blu e un berretto blu ma potevo distinguere che era calvo da come stava il berretto la cosa successiva che ricordo è stato il risveglio sul letto e l'infermiera che mi diceva oh lei si è addormentato ora di nuovo qua con noi se le ha detto queste parole se la voce automatica realmente si è esistita e non lo so ricordo di essermi sentito molto eufolico so chi era l'uomo con il berretto blu non conosco il suo nome completo ma era l'uomo che ho visto il giorno dopo che non era il suo medico curante ho visto quell'uomo venuto a visitarmi e ho riconosciuto che aveva visto il giorno che avevo visto il giorno prima allora la cartella clinica ha confermato l'uso del defibrillatore automatico il team medico presente durante l'arresto cardiaco e il ruolo dell'uomo identificato nel trattamento dell'arresto cardiaco ora questo che è interessante è che il protocollo di rinimazione prevedeva due minuti di massaggio cardiaco e ventilazione dopodiché un minuto di silenzio di fermo di tutte le operazioni perché la macchina il defibrillatore automatico fa l'analisi del ritmo quindi per un minuto intero il paziente non viene né ventilato né fatto il massaggio cardiaco quindi è il cuore completamente il circolo è completamente fermo dopodiché quando il defibrillatore automatico ha fatto l'analisi ha la voce registrata metallica che dice shock the patient se il paziente era in arresto in fibrillazione ventricolare quindi da questo caso hanno stimato che il paziente ha avuto almeno tre minuti di coscienza completamente preservata durante l'arresto cardiaco che gli ha permesso di vedere la scenda dall'alto può testimoniare quello che era successo e di cui l'ultimo minuto non c'erano neanche manovre di rinanimazione quindi un completo assenza di circolo cerebrale il che direi che è intrigante come dato e questo è un dato che non è contestabile è proprio un fatto reale il problema è poi come riusciamo a interpretarlo ora ci sono dati recenti che parlano di pazienti che in fase di massaggio cardiaco hanno qualche barlume di coscienza ma per lo più questo fa parte di cose che ricordano come dolore al petto perché il massaggio cardiaco è molto è molto fastidioso e di frammenti di esperienza così non di esperienze di premorte che si collegano poi nel post rinanimazione anche elementi di disturbo post-traumatico la stessa che sono a essere sottoposti al massaggio cardiaco con un minimo di percezione di quello che succede non è per niente piacevole no? Allora questo è il momento limite della vita non sono pazienti che sono tornati in vita dopo essere morti sono pazienti che sono arrivati sulle soglie della morte quindi so come il grande tuffatore famoso che trovate nella tomba di Pestum credo che tutti lo conosciate nel momento in cui sta per cominciare a tuffarsi e comincia a intravedere lo scenario che ha davanti ma poi torna indietro e anche questo dipinto che è dentro una tomba si tende a pensarlo come la visione del grande tuffo del grande viaggio nella dimensione altra dopo la fine della vita fisica qualunque cosa esso sia ma questa idea della sopravvivenza la vita fisica accompagna l'umanità dalla preistoria fino ad oggi dallo sciamanesimo preistorico fino all'antico Egitto e fino direi alle soglie del materialismo che comincia negli ultimi 200 anni quello moderno della scienza e nel libro tibetano dei morti scusate nel libro dei morti egiziano viene descritto Ba come l'ibis più mato che vola via dal corpo dopo la morte quindi la parte divina totalmente spirituale riconducibile all'anima e l'essenza soggetta alla permanenza nei mondi spirituali idea che gli egiziani avevano molto chiara nella loro ma questa cosa accompagna tutta la storia della letteratura e dell'arte l'idea dell'anima che possa abbandonare il corpo e questo è invece un disegno di un bambino di tre anni che ha riportato Morso una trentina d'anni fa e che ha descritto la sua esperienza in questo modo con questo disegno è fatto da un bambino di tre anni credo che sia molto molto suggestivo perché i bambini non hanno una grande idea di che cosa sia la morte la religione l'anima la sopravvivenza direi molto singolare come report di esperienza vissuta poi ci sono esperienze di tonalità potremmo dire più parapsicologica più paranormale non so come dirla ma solo perché non corrisponde al nostro modello alla nostra visione del mondo ordinaria che vengono chiamate esperienze picchindarie picchindarie perché sono state battezzate così a partire dal sonetto di John Keats quando ha letto per la prima volta l'omero tradotto da Chapman e estasiato da questa versione dell'omero di Chapman lui dice è come ad uno mi sono trovato come uno che nei cieli scruta quando un nuovo pianeta nuota sotto lo sguardo o al valoroso Cortes quando fissò con gli occhi d'acqua al Pacifico e tutti i compagni con febbrile incertezza si guardarono silente sopra un picco in Darien Darien è un'altura che è a Panama da cui la scena è di Cortes con la sua giurma che a un certo punto pensano di essere delle Indie montano su questa altura e gli appare l'impossibile l'inconcepibile cioè l'oceano Pacifico e qui ti cambia tutta la visione del mondo in un attimo quindi è l'osservazione della concreta realtà di ciò che è sconosciuto oltre al mondo conosciuto creduto in esistenza e concepibile pure vero da contemplare in silenzio con una profonda perplessità allora le esperienze Pic in Darien anche queste ce ne sono non sono tantissime e alcune anche ben testimoniate questa è l'esperienza di Eddie Cuomo riportata da Grayson che è uno dei grandi padri delle esperienze di premorte è un'esperienza di fine anni 40 primi anni 50 riportata e testimoniata dal medico curante all'epoca questo bambino nove anni dopo una credo fosse una sepsi perde coscienza quando apre gli occhi alle tre del mattino dice ai genitori che era stato in paradiso doveva visto il defunto nonno Cuomo zia Rosa e lo zio Lorenzo e fin qui siamo nelle esperienze di premorte il medico ascoltata la storia di Eddie ha cercato di guidarla come un delirio febbrile e quindi pensavano di sedarlo di nuovo dopodiché il bambino aggiunge di aver visto anche sua sorella 19enne Teresa che gli ha detto che doveva tornare indietro ma questo ha fatto preoccupare i genitori perché due sere prima aveva parlato con Teresa che era viva e frequentava un college in Vermont quindi ha chiesto al dottor si seda il figlio perché questo è suonato no perché mia figlia è viva ma più tardi quella mattina quando i genitori di Ed telefonarono al college seppero che Teresa era stato ucciso in un incidente automobilistico poco dopo la mezzanotte e che i funzionari del college hanno cercato senza successo di raggiungere il cuomo a casa per informare della tragica notizia il bambino ha visto la sorella nella sua esperienza che era morta poche ore prima e qui io non ho spiegazioni riporto il fatto e questa è materia di speculazioni e di vedere come cercare di interpretarle un altro caso anche questo più recente perché nel 1902 riportato nel 2004 Pimbal Lomme l'altro studioso e autore di grossi studi sulle esperienze di premorti in arresto cardiaco ha riportato di un suo paziente un uomo olandese che durante il resto cardiaco vide la stefunta nonna è un uomo che lo guardò con amore ma che non conosceva oltre dieci anni dopo questa NDE sua madre sul letto di morte gli confessa che era nato da una relazione extracodugale e che suo marito non era suo padre biologico suo padre biologico è in realtà un uomo ebreo che era stato deportato e ucciso durante la seconda guerra mondiale mostrò a suo figlio una fotografia del padre biologico che immediatamente riconobbe come l'uomo che aveva visto nella sua NDE un decennio prima e anche questo è un'altra cosa che lascia molto molto perplessi ma sono fatti ben testimoniati per quanto riguarda gli aspetti di trasformativi c'è un cambiamento permanente delle attitudini e delle convinzioni dei valori aumento della spiritualità degli interessi per gli altri di apprezzamento della vita e dei valori autentici riduzione o scomparsa della paura della morte nessuna attitudine più materialista né per la competitività una percezione meno dualistica e meno separata di sé dal mondo tendenza a sentirsi parte integrante di un universo benevole che ha uno scopo disinteresse per il guadagno personale soprattutto spese degli altri ritenuto controproducente e senso di un significato profondo del destino maggiore apprezzamento per la vita del suo significato maggiore flessibilità e adattamento alle vicissitudini della vita quindi un aumento della resilienza un aumento del valore dell'amore del servizio e riduzione della preoccupazione per il possesso materiale e aumento della compassione quindi una trasformazione spirituale direi importante forte no? come che io ritengo sia un autentico processo di evoluzione metacognitiva e aumento della consapevolezza di sviluppo del sé fondamentalmente ora tutto quello che noi diciamo se facciamo una breve digressione di tipo filosofica anche il positivismo e il materialismo che domina la scienza del ventesimo secolo è una sono hanno un fondamento metafisico cioè nascono da siomi quelli quali per definizione non sono dimostrati e quindi sono sempre come direbbe lo stesso Aristotele come dice nella metafisica e doxa conoscenza relativa opinione e ogni disciplina assiomatica come ha dimostrato Gödel è incompleta quindi ci sono proposizioni che all'interno della disciplina non possono essere dimostrate e verificate non si può dire né che siano vere né che siano false e questo riguarda la scienza anche più rigorosa è quello che ha portato in astrofisica a introdurre il principio antropico per esempio e purtroppo la logica Aristotelica è stata sovrastimata è stata diciamo trasformata in una dottrina dogmatica indiscussa perché tutto quello che fa la logica Aristotelica è validissima nella vita di tutti i giorni ma non è né l'unico né così universale né permette di raggiungere facilmente la verità perché rimaniamo sempre in ambito di dimostrazioni che partono sempre da siomi e da ipotesi quindi tutto quello che noi facciamo anche nella scienza risente di questo come dice Popper nel suo saggio su Parmenide Aristotel fu il primo vero dogmatico perché la filosofia della natura la teoria della natura i grandi tentativi originali di cosmologia si ruppe dopo Aristote la causa principalmente dell'influenza della sua epistemologia questa sia penso in breve la storia di come l'epistemologia come la conosciamo sia stata dominata da quello che Parmenide avrebbe definito la via sbagliata la via della notte e siamo in una direi condizione bella di transizione perché la fisica quantistica ha iniziato una rivoluzione culturale che non è che abbia portato ancora un cambiamento di paradigma importante e diffuso ma ha demolito la logica aristotelica fin dalle radici no dimostrando che anche l'absurdum può essere vero il principio di non contraddizione crolla di fronte alla doppia natura di onde particella del fotone e in accordo con Severino dopo Platone e Aristotele l'Occidente ha preso la strada del nichilismo cioè pensando che quello che l'essere sia quello che appare quindi l'essere è quando non è più e non essere e isolandosi da quello che è la partecipazione alla realtà nel senso più pieno e questo era molto chiaro non solo a Parmenide il cui senso originale dell'essere è stato perso ma è direi ben espresso anche da Ippocrate che è il grande padre della medicina no d'altra parte Parmenide è stato anche grande medico esperto di incubazione guaritore fondatore della scuola medica e quindi è un collega senior di Ippocrate non è solo un filosofo e dice Ippocrate nel De Dieta che nessuna fra tutte le cose viene meno neppure può venire ad essere qualcosa che non fosse già precedentemente ma tutto muta per mescolanza e separazione gli uomini invece pensano che quanto cresce nasca venendo dall'ade alla luce ciò che diminuisce pesisca passando dalla luce all'ade essi infatti credono più agli occhi che alla ragione ciò che è vivente non può morire neppure è possibile che ciò che non è venga ad essere e quindi il problema è quello di andare oltre i limiti del paradigma dominante nelle scienze positive cosa di cui voi siete molto più esperti di me e la fenomenologia dell'NDA ripropone concretamente la dimissione della fine della vita fisica la definizione e la relazione mente-cervello quello che Chalmers ha chiamato il problema difficile che il materialismo non è in grado di affrontare di comprendere la possibilità della permanenza della coscienza nell'arresto cardiaco la relazione mente-realtà e la natura della realtà fisica in sé perché anche quello che noi facciamo io sostengo molto volentieri il realismo modello dipendente di Hawkins e Mlodinock che dice che tutto quello che noi conosciamo come lo conosciamo è un modello e quindi noi abbiamo solo modelli parziali probabilistici che riflettono più o meno e fanno predizioni più o meno corrette sulla realtà ma la realtà non la conosciamo e non possiamo conoscerla ora c'è una buona concordanza tra il pensiero dei presocratici quindi pensiamo a Eraclito e Parmenide e il taoismo il tao è espresso molto bene nel suo simbolo che indica l'unità e la complementarietà degli opposti cosa che noi occidentali abbiamo invece separato e ontologizzato influenzati dal principio di non contraddizione allora tutto questo è parte della manifestazione del mondo in cui tutto si trasforma nel suo contrario e tutta è trasformazione e se posso dire qualcosa che può aiutarci a consolarsi di fronte al problema della morte Zhuangzi dice la vita conduce alla morte la morte sforza nella vita chi mai conosce l'ordine che presiede a questo ciclo di vita e di morte l'uomo nasce da una condessazione del soffio è questo soffio che nel condessarsi produce la vita dello stesso soffio che nel disperdi si porta con sé la morte se la morte e la vita si accompagnano a questo modo che male ce ne viene? il mondo degli uomini è simile a un albergo dove i viaggiatori sostano e se ne vanno l'intelligenza dell'uomo conosce solo ciò che incontra ma non che ciò che non incontra e voler evitare ciò che nessuno può evitare è un errore riprovevole quindi è superficiale e vorrei ridurre tutto al potere limitato dell'intelligenza umana e come dice Yezhi altro grande taoista per il saggio la vita è solo transmutazione no? e il concetto di Tao di Lao Tse è molto vicino e concorda direi secondo me bene con il concetto di essere di Parmenide al punto che è stato proposto che l'unico modo per tradurre in cinese il concetto di essere di Parmenide è proprio il termine Tao il Tao è lo sfondo dell'apparire è l'essere da cui emana l'apparire che è l'unica cosa che noi possiamo vedere e e quindi tutto è trasformazione e nulla può diventare niente che è il problema invece dell'impostazione diciamo dominante nel mondo occidentale no? ora medici e psicologi possono incontrare pazienti che hanno vissuto le loro esperienze di premorte e familiari hanno bisogno di condividere e comprendere il significato di queste esperienze e ne possono trarre beneficio dal supporto dal supporto psicologico per integrare queste esperienze nella propria vita in maniera corretta no? e quindi è concettualmente errato e pericoloso considerarle come mera espressione di funzione cerebrale organica e quindi è doveroso distinguere si può farlo bene un'autentica esperienza di questo tipo da un disordine psichiatrico o da un'elaborazione patologica di un'esperienza autentica facendo adesso un cenno alle intersezioni fra tutte le esperienze non ordinarie che accennava il professor Barbieri le NDE appartengono a questi cosiddetti stati alterati di coscienza che io preferisco chiamare espressioni non ordinarie e che sono state definite come una deviazione nell'esperienza soggettiva rispetto alla coscienza vigile ma è poco definibile la coscienza ordinaria cosa sia e dopo il lavoro di Ludwig che era stato condotto con una grande apertura mentale si si è ridotti a una visione un pochino più neurofisiologica facendo degli stati alterati di coscienza un elenco abbastanza incompleto eterogeneo in cui hanno messo condizioni patologiche insieme a condizioni non patologiche creando un po' di confusione più che chiarezza e il concetto di alterato di coscienza è diciamo un po' ingenuo perché definisce ciò che è alterato tutto quello che è diverso dalla coscienza ordinaria sulla base di un'idea implica di normalità che non è né definita né forse definibile e alcune espressioni non ordinarie come la meditazione e la stessa ipnosi possono essere anche considerati come migliori dello stato di coscienza ordinaria direi che il punto di partenza per un approccio a queste esperienze ordinarie rimane valido quello di William James del 1917 che dice molto saggiamente la nostra coscienza ordinaria non è altro che un tipo particolare di coscienza mentre tutto ciò che la riguarda comprende forme potenziali di coscienza interamente differenti noi possiamo passare la vita senza nemmeno sospettare la loro esistenza ma applicate lo stimolo necessario e in un attimo essi sono lì nella loro completezza tipi definiti di mente che probabilmente hanno da qualche parte il loro qualche campo di applicazione e di adattamento nessun resoconto dell'universo nella sua totalità può essere definitivo se non considera queste forme di coscienza e quindi il concetto di non espressione in ordinaria della mente indica che si tratta di qualcosa diverso da quello che è definito dallo spirito del tempo come ordinario normale il problema è solo epistemologico e non di natura delle esperienze quindi abbiamo intersezioni fra importanti fra la coscienza ordinaria l'ipnosi la meditazione gli stati superiori di coscienza le esperienze riuscite dal corpo l'NDE le esperienze mistiche l'illuminazione tutte cose che fanno parte della nostra vita interiore che vanno comprese da una prospettiva non riduzionista e non patologizzante a priori e ci sono diversi triduignons fra l'NDE per esempio l'OBE esperienze mistiche perché esperienze mistiche hanno in comune l'aspetto trascendente dello scenario che i pazienti vivono con l'NDE le auto body experience fanno parte dell'NDE sono molto frequenti nelle NDE le auto body experience in ipnosi sono facilissimamente inducibili abbiamo fatto anche uno studio nel 2019 vedendo cosa succede come elettroencefalogramma durante durante l'immaginazione dell'uscita dal corpo fatta in ipnosi ok e poi il legame con tutte le sostanze psicotrope e questo ci porta tutte le esperienze da sostanze psicotrope e soprattutto quelle delle culture di tipo sciamanico e di tutto quello che riguarda i riti di passaggio al di fuori di quello che è il nostro ambiente strettamente occidentale moderno ultima cosa come diceva Ring nel 1988 se cerchiamo di riunire i vari filoni di pensiero le prove che abbiamo finora considerato riguardando esperienze mistiche psichedelide e esperienze di premorte sembrerebbero fondesi intorno a una conclusione il paradiso è paradiso comunque esso si sia guadagnato c'è dentro un di noi ognuno ognuno di noi un nucleo spirituale radiante che può rimanere dormiente fino a quando alcuni potenti catalizzatori non riescono a suscitarlo la mia la mia lettura la mia lettura dell'evidenza suggerisce che sia lo stimolo uno sperimento un esperimento mistico spontaneo un episodio psichedelico un'esperienza di premorte una volta che questo nucleo è attivato e si inizia a dispiegarsi e portare la trasformazione in modo simile come se fosse stato coinvolto un archetipo di trasformazione e direi che possiamo anche qui fermarsi perché l'abbiamo vi ho già detto tutto se no lo tiriamo troppo in lungo mille grazie ecco possiamo tornare alla modalità condivisa io ti ringrazio molto il professor Facco ci ha offerto una lezione in cui è molto forte l'investimento epistemologico io ho già parlato molto nell'introduzione quindi vorrei riservarmi proprio due battute di commento due annotazioni rapide per poi cedere la parola agli altri interventi magari cominciando poi se desiderano farlo da Donne Brandalise e da Davide Susanetti che sono collegati e che assieme a me molto meglio di me coordinano e organizzano assieme ai giovani il nostro seminario allora vorrei dire anzitutto che la cosa la cosa forse che colpisce di più è che il tuo lavoro di raffronto di casi ed evidenze di natura clinica in apertura diciamo larga con altri con altri orizzonti che sono quello etnografico che sono quello degli stati non ordinari di coscienza mostra diciamo degli elementi che hanno una forte producono un forte effetto di convergenza rispetto ad alcune operazioni della comparatistica mitico-religiosa cioè indiscutibilmente le figurazioni ricorrenti che sono riconoscibili nei loro nuclei fondamentali no? riunite come potremmo dire dai dati di ambientazione ecologica dalle declinazioni etniche dagli elementi di travestimento e camuffamento culturale ci raccontano diciamo di una fortissima stabilità di una immaginazione condivisa universale grande potenza fortemente scolpita e non di meno capace appunto di attraversare metamorficamente molte esperienze e di insediarsi in molte culture e in tanti soggetti dentro queste dentro questa serie di figurazioni riconoscibili i due i due paradigmi che mi sembrano che mi sembrano più forti sono a parer mio a parer mio il modello iniziatico che insomma è una presenza fortissima proprio strutturante e poi quello del viaggio nell'aldilà con alcune caratterizzazioni che normalmente vanno verso l'euforico paradisiaco tu hai ricordato come non manchino in bibliografia in letteratura attestazioni diciamo distopico disforiche ma sono largamente minoritarie cioè normalmente queste sono esperienze atteggiate positivamente con un effetto anzi così di beatitudine di stato di grazia questo è il primo elemento poi l'altro elemento che mi ha colpito molto perché quello più anche vicino come potrei dire alla nostra ai nostri interessi anche letterari anche con riferimento alla letteratura diciamo mitico religiosa è quello che tu hai detto sulla coerenza di racconto in fondo quasi tutte queste narrazioni io ne avevo viste molte di queste testimonianze che tu riportavi nel dossier del tuo volume della tua monografia somiglia molto di più questo tipo di narrazione al modo fiabesco chiamiamolo così al modo fiabesco e al racconto di magia che al tracciato del discorso onirico con i suoi sussulti i suoi modi frastagliati i suoi i suoi balzi improvvisi o peggio ancora alla congerie del delirium cioè rispetto diciamo alla dimensione ipnotico onirica con le sue variazioni repentine con i suoi cortocircuiti o appunto alla produzione caotica del delirio mi pare di poter dire che il modello fiabistico con la sua struttura coerente e con un ritornare potente di elementi ricorsivi iterativi che rimandano ad alcune grandi concrezioni archetipiche dell'immaginazione della beatitudine e della nostalgia delle origini siano forse gli elementi più facilmente comparabili quelli che hanno forse un elemento di maggiore vicinanza con queste esperienze che appaiono appunto così strutturate in fondo così compatte non solo per ritornare degli stessi elementi ma anche per il modo come potrei dire estremamente sistemico e molto organizzato della struttura narrativa che serve a porgerli ecco ma forse potremmo senza che tu debba per forza commentare queste mie riflessioni un po' disordinate potremmo raccogliere magari vedo che anche Marcello Barison non so potremmo raccogliere magari anche gli interventi di Adone Brandalise di Davide Susanetti e di Marcello Barison col quale mi scuso perché non l'avevo visto pensavo che non fosse collegato io sono un po' impacciato nella insomma nell'impiego delle videoconferenze ma se vuoi cominciare tu che ti eri che avevi alzato subito la mano ah ma io proprio una cosa molto molto breve innanzitutto volevo volevo ringraziare il professor Facco per la per la relazione perché insomma è una tematica che mi che mi interessa moltissimo è che peraltro ho avuto modo di approfondire minimamente in tempi remoti ed è come se l'avesse un po' anche rievocata con la sua molto analitica appunto epistemologicamente anche molto articolata presentazione no io volevo solo chiedere una cosa relativamente all'esperienza extracorporale e alla questione del sogno lucido perché è andato appunto in chiusura di relazione aveva accennato al fatto appunto che come con l'ipnosi questa appunto l'esperienza extracorporale è facilmente riproducibile facilmente inducibile mi interessava avere qualche qualche dettaglio qualche maggior dettaglio riguardo nel senso che durante tutto lo svolgimento del suo intervento stavo esattamente pensando alla tematica diciamo del viaggio extracorporale conosciuto anche come il viaggio astrale e mi domandavo appunto se non fosse proprio un luogo dove effettivamente la visione di sé dall'esterno la capacità in qualche modo di come dire narrare retrospettivamente una situazione vista da una prospettiva non individuale non centrata sulla propria corporità fisica non fosse proprio diciamo molto aderente e per certi versi poi conosciamo diciamo le implicazioni e le ricorrenze di questo tipo di di atteggiamento in ambito ad esempio sciamanico e tutta una serie di luoghi che sono stati poi anche ampiamente menzionati e toccati sia ad Alvaro Barbieri sia naturalmente nella presentazione e quindi mi volevo un po' un approfondimento su questa cosa che mi interessava parecchio anche soprattutto mi interesserebbe sapere poi avendo per la prima volta diciamo occasione di parlare con un specialista dal punto di vista come dire biochimico dal punto di vista proprio dell'analisi neurologica noi cosa sappiamo nel momento in cui intervengono stati alterati di questo genere cioè che tipo proprio anche di profondità analitica siamo in grado di raggiungere quando diciamo ad esempio che sono in qualche maniera ripetibili o appunto quando indaghiamo il loro evento diciamo nell'ambito del suo del suo produsso è tutto qui grazie prego allora benissimo grazie per la domanda perché apre un altro capitolo amplissimo perché le auto body experience sono molto molto frequenti durante le esperienze di premorte ma sono anche indipendenti da esse oggi si calcola che fino al 25% della popolazione non clinica almeno una volta nella vita ha avuto un altro body experience che capita così spontaneamente o una volta una mia conoscente gli è successo mentre faceva Shavasana la lezione di yoga quindi la posizione del morto il rilassamento si è vista dall'alto ha preso una gran paura poi non l'ha raccontato a nessuno per poter di essere presa per suonata perché poi diciamo quello che è lo spirito del tempo crea un filtro molto forte nel comunicare esperienze di questo tipo una parte dell'auto body experience può avvenire come allucinazione ipnagogica o ipnopompica cioè in fase di addormentamento in fase di risveglio dove si possono avere manifestazioni così tra virgolette allucinatorie perché poi io le considero come fatti normali e oggi si tende a pensare che le allucinazioni avvengano anche qui diciamo fino al 15% della popolazione non clinica come fatto sporadico anche allucinazione uditiva per cui anche la diagnosi di disturbi come la schizofrenia dove l'allucinazione uditiva o le altre allucinazioni erano considerate patognomoniche fino agli anni 80 adesso si fa più leva si pensa di più ai sintomi negativi come l'anidonia io mi ho avuto un paio di pazienti che hanno allucinazione alluditiva e dico sono intrusive ti danno fastidio o no ti dicono cose sensate o no se tu rimani stabile dove sei ascolti queste cose e serenamente le valuti per capire cosa sono non è un fenomeno patologico la patologia nasce dal giudizio che io faccio di questa cosa quindi se io sento una voce e la prendo come è la lascio lì ma se penso quando sento la voce che io sono l'unto del Signore devo andare a convertire i popoli ebbene che prima passi in pronto soccorso psichiatrico a farmi registrare le valvole per quanto riguarda le auto body experience come dicevo prima è qui nella zona all'angolo al giro angolare destro al confine fra l'uomo parietale temporale dove tutte le afferenze multisensoriali vengono integrate dove si acquisisce la prospettiva di prima persona e quindi dove io sono rispetto all'ambiente che se viene alterata può dare alterazioni di questa percezione però gli stimi gli esperimenti che ho fatto fino adesso anche stimolando la corteccia cerebrale in quei punti sono danno più di smorfopsie tipo vedo le gambe che si allungano le braccia che mi sembrano che si muovono ma dire io esco fuori vedo dall'alto la scena come fanno le esperienze di premorte no l'ipnosi è una rientra nelle espressioni non ordinarie della mente non ordinaria solo perché l'abbiamo negata a priori per ragioni culturali non perché sia di per sé una cosa strana è una tecnica terapeutica che è straordinariamente efficace e completamente diversa da come è stata codificata negli ultimi due secoli perché richiede una grande concentrazione una grande capacità dietro a un laboratorio mentale intenzionale introspettivo intenzionale non c'è niente di quello che millantano i produttisti da spettacolo o anche vecchie cose dette da colleghi degli anni 50 60 70 allora è un ottimo laboratorio cerebrale con cui puoi ottenere risultati con cui il paziente riesce a controllare attività di circuiti cerebrali che con la coscienza ordinaria non riesce a controllare l'esempio più eclatante dell'ipnosi è l'analgesia chirurgica io ho fatto 8 interventi chirurgici in pazienti senza nessun anestetico con questi che rimangono perfettamente lucidi consapevoli gli do le istruzioni per creare l'analgesia non sentono male e non hanno nessuna stranezza di niente ma tengono tutte le loro facoltà mentali inalterate in ipnosi è facile indurre le esperienze di premorte in un soggetto che abbia una buona capacità di ipnosi noi l'abbiamo studiata con l'elettroencefalogramma e quello che è interessante è che c'era durante l'immaginazione di essere fuori dal corpo c'era una riduzione dell'attività rapida nelle bande beta e gamma ma proprio in regione parietotemporale destra come dire abbiamo ridotto un pochettino quell'attività e quindi faciliti questa cosa è interessante da notare che se fai fare la stessa esperienza al di fuori dell'ipnosi condizioni basale non c'è nessun cambiamento a livello parietotemporale destra ma c'è un piccolo cambiamento ma significativo sulla corteccia temporale sinistra che è connessa con la memoria cinetica quindi l'esperienza in ipnosi è completamente qualitativamente diversa dall'esperienza di immaginare proprio di uscire dal corpo in condizioni normali e questo succede per molte cose dell'ipnosi poi non c'è un pattern elettroencefalografico che definisca esattamente cosa fa l'ipnosi come anche la meditazione ci sono dei trait d'union fra le due tecniche una cosa fondamentale come attivazione durante sia la meditazione sia l'ipnosi è l'attivazione della corteccia cingolata anteriore poi le altre cose che cambiano dipende da qual è il compito ipnotico meditativo se devo fare un'analgesia viene modulata l'attività della neuromatrice del dolore se devo fare un'esperienza di uscita dal corpo si modula quello si va a influire a cambiare la regolazione l'attività di aree cerebrale che dipendono dal compito specifico però ci sono dei dati ormai incontrovertibili sulla correlazione fra ipnosi da una parte e meditazione dall'altra e modificazioni intenzionali dell'attività elettrica cerebrale e quello che è importante è che queste sono modificazioni top down prodotte da un lavoro mentale introspettivo con cui tu vai a controllare quelle aree che è quello che è inconcepibile per la visione materialista eliminativista che pensa che tutto è il cervello e la gerarchia è solo bottom up e quindi tu non puoi fare niente la mente impotente questo non è vero c'è una gerarchia bireazionale nel senso che se modifichi in qualche modo il cervello con farmaci o lesioni eccetera è chiaro che si modifica l'attività della mente ma se tu usi l'attività della mente in un certo modo puoi regolare intenzionalmente l'attività cerebrale l'ultimo punto sull'autobody experience che è lo che mi è piaciuto è che di questi ragazzi che facevano questa esperienza qualcuno con anche un po' di reticenza perché l'idea di uscire dal corpo ti lascia un po' perplesso ma erano interessati a farlo e l'hanno fatto volentieri quasi tutti hanno avuto esperienze di tonalità direi fusionale mistica che è tipico di chi altamente ipnotizzabile e che faceva venire immediatamente il pensiero che fosse un qualche cosa che assomiglia a quando Platone dice che l'anima è imprigionata nel corpo come una cozza nel suo guscio essere immaginario uscire dal corpo liberarsi nell'aria in assenza di gravità e potendo fare quello che vuoi dà un senso di benessere di grande piacere di grande serenità invece che di angoscia per aver perso il proprio corpo ho risposto a tutto non mi ricordo se c'è qualcosa che ho dimenticato eccolo qua no sì quindi sull'idea che siano stati stati indotti cioè diciamo ci sono quindi delle procedure delle procedure allora sì dei stati indotti c'è tutto un corpo che adesso sto analizzando in questo periodo su cercare di vedere non tanto l'analisi delle differenze che è il processo logico analitico l'analitico ordinario di dire cos'è diverso nella meditazione nell'ipnosi piuttosto che nel sogno guidato nel sogno lucio ma cosa hanno in comune no e io devo dire che non ho spinto l'analisi fino adesso più in là ma ci sono due punti che secondo me sono importanti il primo è l'idea che dura da 3.000 anni del sonno che è un falso perché anche l'ipnosi è stata definita come una condizione simile al sonno solo perché dal di fuori tu vedi il paziente con gli occhi chiusi perché sta facendo un lavoro introspettivo ma con il sonno non ha niente in comune ma il sonno se lo vediamo da una prospettiva che non è quella della neurologia che conosce oggi la neurofisiologia del sonno è solo un modo per indicare che se tu chiudi gli occhi devi l'attenzione dal mondo esterno al mondo interno e solo se devi l'attenzione totalmente al mondo interno e ti consenti di dentro riesci ad acquisire un controllo sulla tua mente che non hai finché sei nella coscienza ordinaria che è indirizzata essenzialmente fuori quindi questo è uno degli elementi degli elementi chiave e l'altro non me lo ricordo più adesso mi sono perso un attimo allora forse potremmo dar voce ad altri interventi non so io in questo momento vedo Davide Susanetti per esempio non so se voglia prendere la parola scusami un attimo l'altro elemento fondamentale è l'immaginazione immaginazione che in ipnosi viene definita immaginazione plastica cioè tu arrivi a immaginare le cose quasi come se fossero reali sai benissimo che immaginazione non è allucinazione ma le immagini quasi come se fossero reali e le vivi con partecipazione psicosomatica e con questo raggiungi un miglior controllo anche sulle tue funzioni vegetative per esempio cosa che fa un mio collega in cardiologia ad asti quando fa tutte le procedure interventistiche per le aritmie cardiache sostanzialmente il paziente lo mette in ipnosi è tranquillo in uno scenario bello piacevole se è una bella spiaggia ti riposi eccetera se il paziente ha una crisi ipotensiva che fino a pochi mesi fa la curavano con i farmaci per tirare su la pressione adesso è bastato dirgli bene adesso ti alzi fai una bella corsa sulla spiaggia e la pressione aumenta la frequenza cardiaca aumenta come se stesse correndo davvero ok quindi arrivo a un punto in cui crea una connessione mente corpo che mi permette intenzionalmente di modificare l'attività neuroresitativa di influire sulle funzioni che non sono sotto il controllo della coscienza quindi l'ipnosi è un aumento di controllo sulla propria mente sul proprio corpo non è la perdita del controllo come si è millantato nel gran parte fino a tre quarti del ventesimo secolo quindi i due elementi che c'è in tutte queste cose sono l'immaginazione plastica e la chiusura degli occhi dopo che io faccia un training che è diverso come procedura per indurre un sogno lucido un sogno lucido piuttosto che altre cose ma quello che conta sono queste facoltà della mente che sono e questi aspetti procedurali che sono comuni secondo me e che permettono di fare il salto di qualità rispetto alla coscienza ordinaria Grazie Susanne e Chio Brandelise nell'ordine che preferiscono Ma no ma io non ho cose particolari da dire perché si sa che è così cioè nel senso dire esiste come dire non solo la documentazione che attingiamo come dire da una tradizione storico-religiosa ma ovviamente insomma abbiamo tutta una serie di testi che non sono testi per diciamo trasmettere delle informazioni ma semmai per indurre delle pratiche e ovviamente i risultati che si ottengono sono esattamente questi voglio dire anche quella dell'immaginazione come mediatore plastico cioè basta basta che prendiate qualsiasi libro di magia ottocentesco inizio novecentesco ovviamente come dire sono magia nel senso più coltivato e consapevole del termine per trovare come dire tutte le le scansioni di quelle cose che il professor Sacco fa come diceva per cui sì ovviamente è importante che diciamo la voce che da un ambito scientifico testimoni una rilevanza di cose che sappiamo ecco insomma e quindi si vada delle forme di sintesi ecco diciamo più che fare una domanda formulerei un invito se possibile perché sappiamo che quante poi resistenze anche ci sono al di là dei diciamo contenitori più strettamente sperimentali a comunicare più diffusamente determinate pratiche che in realtà appunto al di là di qualsiasi credenza soggettiva però voglio dire producono anche semplicemente per il buon vivere una serie di effetti siamo diciamo sull'orizzonte come tanti libri testimonio di una rinascenza psichedelica insomma matizzata sia da autori come Dale ma penso anche a Cipriani che ha scritto una psichiatria volta della dimensione invece della dimensione psichedelica però poi appunto spesso c'è un fadetta selvaggio in queste cose che sono le suggestioni più 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 vaghe meno controllate mentre diciamo ambiti controllati sorvegliati in cui ci sia come dire appunto uno sguardo medico che ovviamente può intervenire laddove poi ci sia una problematica che a volte si danno quando si fanno determinate pratiche secondo me sarebbe una cosa anche culturalmente importante sì sì sono d'accordo con te anzi vorrei invece approfittare solo per una cosa che voglio fare da almeno sei mesi io voglio congratularmi con te per il tuo libro sulla via degli dèi che mi è piaciuto da morire è stato un misto di cose belle che ho letto e di sentirmi a casa mia proprio grandioso mi è piaciuto tantissimo e adesso finalmente ho occasione di dirtelo perché non avevo ti ringrazio poi ovviamente siamo in un contesto pubblico in diretta non possiamo parlare di metri di altre cose per cui riserviamo ad altri ambiti va bene adesso sta rinascendo l'interesse per l'uso degli allucinogeni in psichiatria per la cura delle depressioni di altri disturbi psichiatrici e non c'è motivo di pensare che non possono funzionare come tutte le sostanze tutti i farmaci secondo me vale quello che ha detto Paracelso 500 anni fa che la differenza tra il farmaco e il veleno è solo la dose e aggiungerei l'indicazione anche adesso senza esplicitare le fonti ma voglio dire tre assunzioni rituali di metintrettamina come dire fanno l'effetto stabilizzante da un punto di vista umorale di una terapia di 12 mesi di serotonina cioè di paroxettina di paroxettina c'è anche un altro c'è un dei bei review recenti sui limiti dell'idea della serotonina come ruolo nella depressione anche perché nell'uso prolungato pare che sia una depressione di serotonina non solo un aumento ed è un'idea riduzionista che a me non piace perché personalmente come la vedo io per me ansia e depressione tranne casi particolarmente gravi puramente psichiatrici in cui non hai risorse di cambiamento del paziente sono materie di esperienza di vita più che di neurotrasmettitori è un esempio che faccio sempre la lezione di un collega mio che anni fa mi è venuto a chiedere se potevo fare qualcosa con l'ipnosi o con l'agopuntura per la depressione dico sì perché sai sono andato dal mio amico psichiatra mi ha detto che la serotonina bassa vuol dire che io ho questa tendenza prenditi l'antidepressivo e vedi che ti passa e io non gli ho fatto nessuna valutazione psichiatrica raffinata gli ho chiesto solo una cosa banalissima cosa ti è successo e lui aveva fondato i dubbi che la moglie gli mettesse le corna allora il problema qual è la serotonina o sono le corna semmai lo studio scientifico ti ha preso vedere come le corna possono modificare la serotonina e dopo come dire forse la psicoanalisi potrebbe mettersi in mezzo diciamo aggiungendo un qualche spessore alla cosa esatto bene grazie ancora a te per quel libro guarda mi è piaciuto è da morire proprio era adesso finalmente te l'ho detto sono contento non so se Adone invece voglia aggiungere Adone ecco infatti volevo convocarlo no no volentierissimo ma anche perché in realtà la relazione per la quale mi congratulo ovviamente fa fiorire un'intera agenda di possibili sviluppi considerando che probabilmente altri desidereranno intervenire mi limito soltanto a uno spezzone di riflessione è stato citato in una replica all'intervento di Barison un'immagine platonica dell'anima che si libera dal corpo e per alcuni versi sempre restando nel contesto dei riferimenti platonici potremmo trovare un parziale isomorfismo e una connessione poi anche in termini sistematici con il tema della mania così come appare ad esempio esemplarmente nel Fedro dove la mania è ciò che caratterizza al di là della sua imputazione a un influsso divino all'entusiasmo divino il fatto che con essa si possono compiere azioni di cui restando nei limiti dell'intelligenza umana non si sarebbe capaci quindi abbiamo per così dire in questo caso attraverso l'immagine dell'invasamento divino una descrizione di un passaggio di un livello diverso che per alcuni versi appartiene ancora al soggetto che lo vive per altri diversi apre questo soggetto in una direzione ulteriore e quindi in un certo senso abbiamo qualcosa che i vetuperati psicanalisti potrebbero chiamare una destituzione soggettiva che per molti versi però coincide anche con una forte esaltazione della singolarità quindi come possiamo dire il distacco in questo caso è il distacco tra una dimensione controllata è certificata da un modello identitario anche i modelli di auto identificazione sono modelli nel senso che si è precedentemente detto è essenzialmente una dimensione che travalica quest'ambito e che non è la cancellazione questo lo insegnano ai livelli più elevati alcuni percorsi di pensiero mistico che non è la cancellazione della singolarità ma è la sua massima esaltazione mi viene in mente questo perché un modo di leggere tutta l'esposizione che lei ci ha proposto in un certo senso come possiamo dire valorizzando in questa chiave il discorso sugli stati di premorte è essenzialmente un percorso per così dire filosofico epistemologico in cui si potrebbe dire che l'assetto della conoscenza concepita sotto il segno del sapere in un orizzonte a cui per comodità possiamo dare come riferimento la metafisica occidentale e le sue implicazioni viene per così dire portato sino a una sua esperienza di premorte questo ricorda per così dire alcune questioni che sono particolarmente vive per coloro che si occupano di mistica soprattutto quando in qualche modo non ci si riduce a concepire la mistica come una somma di esperienze esteriormente constatabili ma ci si trova di fronte a quella che potremmo definire una mistica del pensiero in cui la vicissitudine mistica è fatta vivere al pensiero che si trova per così dire nei suoi momenti di culmine a dover disarticolare e oltrepassare tutti i suoi assetti precedentemente vissuti e per molti versi si potrebbe dire che in tutta una serie di percorsi filosofici teologici mistici ci si trova di fronte come possiamo dire a una soglia all'altezza della quale si tratta per così dire di decidere se salvaguardare una propria identità e una convenzionale produttività del proprio pensiero o in qualche modo non resistere o meglio non depotenziare il desiderio nel senso erotico della ricerca filosofica che porta in realtà a sacrificare questa dimensione a favore di qualcosa che sia più alto e più vero sotto questo profilo ad esempio come possiamo dire se mi si passa il lacanismo la dicotomia tra realtà e reale dove la realtà si colloca costantemente nell'orizzonte della formazione immaginaria o ad esempio nella produzione di modelli interpretativi legittimi ma intrinsecamente limitati laddove il reale è sempre un'esperienza possibile ma che non è un'esperienza che si dà alla dimensione del sapere non è qualcosa che debba essere tradotto in un posseduto dell'intelletto perché ciò che gli compete è l'irriducibilità del presente e il presente questo mi sembrava cosa che in un certo senso emergeva in maniera estremamente suggestiva in quanto è stato detto e il presente apre per così dire in direzione di un'eternità non concepita come durata indefinita ma come ulteriorità alla durata ecco quindi in un certo senso come possiamo dire mi sembrava che tutta la sua esposizione avesse una fondamentale un fondamentale telos antiriduzionistico fondamentalmente dove come possiamo dire l'antiriduzionismo però in questo caso arrivo subito a una conclusione secondo me molto meritoriamente non prende l'aspetto della apologia di una tradizionale concezione umanistica perché per molti versi ciò che chiamiamo umanesimo è esattamente ciò che tutto sommato fa massa esattamente con quel complesso di apparati concettuali che sono esattamente quelli che si risolvono nel tecnicismo riduzionista e che hanno essenzialmente come loro nucleo la riduzione dell'esperienza intellettuale spirituale alla produzione di un sapere saputo ecco questo mi sembrava come possiamo dire particolarmente interessante perché in un certo senso mi sembra agisca in prospettiva nel confronto dei saperi scientifici in senso tradizionale mobilitati non nel senso di una loro negazione o nel senso di una nella manifestazione di un'istanza antirazionalistica ma nel senso invece della instaurazione di quella complementarietà che mi sembra massimamente razionale tra l'orizzonte del sapere e l'orizzonte di un non sapere che è esattamente quella dimensione nella quale però accadono tutte le cose veramente importanti dell'esistenza che sono fondamentalmente cose che non sono riconducibili a un sapere già saputo come ad esempio come mi è accaduto di dire in altre circostanze gli amici saranno stufi dovete sentirlo come avviene per tutti i rapporti interpersonali dove sostanzialmente nulla ci può essere di definitivamente saputo fino a quando le persone sono vive fondamentalmente ecco in questo senso allora qui però come possiamo dire termino nel momento in cui da un certo punto di vista si tratterebbe di cominciare come diceva Davide si esiste una vastissima letteratura in cui situazioni come quelle che lei ha descritte sono diventate la risorsa di narrazioni o meglio ancora la risorsa di gesti spirituali penso ad esempio tutta la tematica della virtus immaginalis che ad esempio lussureggia in maniera in maniera di eccezionale virtuosismo intellettuale a me questa è una tradizione particolarmente cara ma credo che non sia assurdo o sottolinearlo in tutta la tradizione mistico-suffica fondamentalmente in particolare nelle tradizioni nel suo versante sufico iraniano ad esempio che significativamente qui veramente vado alla conclusione si ripresenta assieme ad altre di quelle che noi chiamiamo tradizioni come in alcuni episodi del pensiero novecentesco anche fino ad oggi come una risorsa che consente a un'esperienza di pensiero che si sente esausta di darsi un'altra possibilità istituendo una tensione tra la propria storia e le proprie risorse e qualcosa che per alcuni versi la nega e per alcuni versi dialoga però anche con essa questo mi sembra un elemento di suggestione che apparentemente potrebbe apparire una forma di parassitosi nei confronti del tema delle esperienze di premorte ma che credo da un certo punto di vista indichi anche un percorso all'interno di ciò che ci consente poi di pensare a queste esperienze come qualcosa che appunto evita il riduzionismo di concepirle semplicemente come alcune situazioni particolari che costituiscono una questione di dettaglio dal punto di vista delle scienze mediche ad esempio ecco e questo mi sembra appunto anche qui come possiamo dire una felice pratica antiriduzionistica insomma ecco la ringrazio molto grazie vedo che è stata depositata una breve domanda in chat magari ne do lettura dice c'è un rapporto tra ciò che viene esperito nell'esperienza di premorte e di uscita dal corpo e l'esistenza di ciò che viene definito corpo sottile allora è difficile dirlo nel senso che non occorre scomodare l'idea del corpo sottile parlando di queste cose poi non sono né in contraddizione né da fare facili accostamenti no per similitudine anche perché sono tutti fenomeni che noi in qualche modo approcciamo conosciamo e definiamo narrativamente meglio che possiamo ma con tutti i limiti che ogni termine ogni narrazione ogni prospettiva di discipline diverse ha per cui anche parlare di corpo sottile bisogna vedere cosa uno intende per corpo sottile come nel buddismo tibetano c'è l'idea della coscienza grossolana che muore col cervello quindi in armonia con la visione delle neuroscienze ma c'è una coscienza sottile che sopravvive che è quella che si reincarna allora ci sono tanti termini che possono essere ambigui perché sono etichette che noi appiccichiamo a qualche cosa che non conosciamo nei minimi dettagli e si corre il rischio di confondersi più che di fare chiarezza a volte dopo che queste esperienze possono voler dire qualcosa che riguarda il corpo sottile ma questa è una speculazione che riguarda cosa il corpo sottile è cosa fa e quali e se quello che noi facciamo come esperienze che sono prodotti della mente io adesso rimango ancorato al fatto che sia un prodotto della mente e dell'immaginazione se abbia poi un correlato di una dimensione altra di una vita che sopravvive alla morte fisica o no questo non lo so semmai cercherò di dirvelo il giorno che muoio se dopo che faccio l'esperienza magari se riesco vi telefono per vedere come è andata a finire perché sono tutte robe su cui facciamo ipotesi e ci permettono di aprirci in maniera secondo me valida al grande mistero dell'esistenza senza dare per scontato nessuna nessuna soluzione a priori che è sempre necessariamente un prudizio e una proiezione della mente per cui posso intervenire un momento rispetto a questa domanda proprio in perfetta consonanza con quello che tu dicevi le terminologie corpo sottile corpo astrale e tutti appunto mediatore plastico eccetera eccetera tutte queste terminologie hanno semplicemente un senso se sono come dire assunti coerentemente all'interno di una pratica cioè come indicatori di un fare all'interno di un assetto coerente rispetto al quale poi non è come dire da chiedersi ma il corpo astrale di non so Levi è la stessa cosa di cui parla quell'altro eccetera eccetera cioè non è questa la prospettiva qui è un ambito in cui come dire il comparativismo è una cosa assolutamente nociva perché appunto è discriminante aristotelica come dire ogni terminologia ha un suo senso all'interno di una pratica specifica che guida a fare queste esperienze e sono soltanto come dire pioli di una scala che valgono ripeto come indicatori poi tutto il resto appunto è una concettualizzazione ex post ma diventa nominalismo sterile sono d'accordo con te chiedo scusa volevo molto rimarcare quanto diceva Dalia perché effettivamente c'è il rischio anche nella descrizione delle tradizioni di indulgere a una sorta di prassi reificante per cui quelle che sono articolazioni di una pratica che ha necessariamente una sua configurazione temporale anche diventano per così dire oggetti giacenti all'interno di una sorta di erbario in qualche modo della spiritualità insomma ecco così in questo modo come possiamo dire penso ad esempio al destino che è stato di Proclo per molti versi dove essenzialmente l'eccezionale proliferazione simbolica delle figure divine rischia di diventare una sorta di super condominio alla scampia di dei in ristrettezze spaziali insomma ecco quindi questo è particolarmente importante chiedo scusa no al contrario mi sembra che siano state delle puntualizzazioni molto felici proprio nella misura in cui permettono di uscire dalla registrazione di un bric-a-brac di nomenclature di terminologie di cui sarebbe inutile ricercare corrispondenze omologie ritornando invece come è stato opportunamente ricordato da Davide Susanetti ma anche da Adone quando parlava di narrazioni che in fondo sono gesti spirituali il che significa appunto situarsi dentro una pratica dentro un orizzonte trasformativo che si dà all'interno di una pratica coerente e non in termini appunto di di nomenclature non non in termini di di un baule da fattucchiere in cui peschiamo definizioni e denominazioni tutto sommato così già cadute in dessuetudine e perdibili nel momento in cui si danno con un ruolo di etichette vuote di gusci bene non so c'è qualche altra c'è qualche altro intervento se posso io avrei una curiosità perché prima si accennava al legame con il taoismo dunque il sapere orientale e un'altra suggestione che mi sovviene è quella sempre legata all'orientale ossia al monismo idealista vedantino dove vi sia la possibilità di raggiungere una sorta di beatitudine psichica attraverso il sacrificio quindi il rituale ma rinunciando alla ritualità stessa quindi ponendo come obiettivo primo quello che è il tiaga quindi l'abbandono la rinuncia della concretezza per la quale però si sta agendo e si sta operando per raggiungere poi come fine ultimo proprio la la dissoluzione la distruzione no del dualismo soggetto oggetto e quindi mi sembra un contesto in cui razionalmente si vada a dissolvere la razionalità in un certo senso allora mi chiedo se anche se probabilmente intrinseco un paradosso in tutto ciò si possa all'interno di tali esperienze raggiungere lo stato di incoscienza coscientemente cioè abbiamo visto come queste esperienze possano manifestarsi palesarsi in seguito ad un trauma oppure con l'ipnosi comportamentale il sogno guidato ma un essere umano coscientemente può senza un intervento esterno o senza appunto un evento traumatico raggiungere il medesimo stato appunto di beatitudine di benessere o di contatto con l'alterità appunto coscientemente annullando la propria coscienza allora secondo me è molto complessa la cosa per cui è difficile dare una risposta breve e univoca che vada bene per tutto però io la vedo più come la strada quella verso l'illuminazione l'emancipazione lo sviluppo del sé della metacognizione che vista dalla prospettiva buddista è sollevare mai al velo dell'illusione che è quello della coscienza ordinaria della prospettiva egocentrica che è pesantissima dal punto di vista della cognizione e della aderenza alla realtà allora ci sono tante cose perché tutte queste esperienze puoi fare esperienze di tipo tra virgolette catafatico cioè hai immaginazione hai scenari puoi vedere mille cose anche in un'esperienza mistica hai esperienze mistiche apofatiche in cui non vivi assolutamente nulla sei lì in uno stato di coscienza che potremmo in qualche modo dire minimo perché non c'ha tutti i contenuti i concettuali eccetera ma che non è meno importante allora se vai a vedere la tradizione vedica considerava quattro stati di coscienza i tre che conosciamo anche noi che sono la veglia il sonno il sogno e poi turia che è il quarto stadio in cui non sei né cosciente né inconsciente né sveglio né addormentato e questa è l'anticamera come punto come nel Yoga Sutra di Patanjali un punto fondamentale del processo meditativo è il Niroda che è l'arresto della mente che non vuol dire che è demenza perché è arresto della mente è l'arresto della mente discorsiva che è un'altra cosa come con la ragione dianoetica non è che riesce ad arrivare a quei vertici rimane nel campo del relativo del multiforme del dualismo delle separazioni dell'analisi e quando tu fai yoga hai una fase di induzione che è il dhyana poi c'è il dharana che è dove cominciano le immagini e tutto diciamo il lavoro meditativo che uno può fare il samadhi che è il punto più elevato è quella condizione in cui c'è più nessuna distinzione tra conoscente conoscenza e conosciuta quindi comincia ad entrare in uno stato che non definibile facilmente dalla prospettiva ordinaria e anche nel buddismo zen che è la via che a me piace di più e la più difficile dove un caposaldo del buddismo zen è la teoria della dottrina del vuoto mentale che è quella condizione in cui tu superi ogni pensiero concettuale vai oltre il ragionamento il pensiero concettuale i concetti le idee le cose per raggiungere l'illuminazione perché quella è oltre il pensiero concettuale e non è esprimibile quindi tanto non ci sono arrivato io di sicuro quindi non saprei neanche dirtelo com'è ma neanche credo che sia definibile facilmente essendo un'esperienza che è oltre il pensiero concettuale come l'epopteia e nei misteri gli osini come tutte le produzioni iniziatiche quando raggiungi il vertice sei oltre punto e non non sono comunicabili sono ineffabili però il primo scopo della meditazione è fermare la mente discorsiva lì comincia poi a scoprire tutto il resto perché se noi rimaniamo prigionieri dei concetti delle regole del dialogare quello ordinario e questo utile finché vuoi ma non non è quello che ti porta a contatto con la realtà oltre gli schemi che hai così costruito culturalmente per appartenenza al gruppo a cui appartieni eccetera però questa cosa qua secondo me puoi fare tranquillamente da solo se c'è la voglia di farlo Buddha l'ha fatto da solo ma di Buddha non ce ne sono tanti al mondo qualcuno sì lui è uno di quelli e lui ha cominciato tutto partendo da zero abbandonando la moglie e la famiglia per seguire la via finché non raggiunge l'illuminazione sotto l'albero del bodi nei conventi i novizi hanno i monaci che li guidano perché è una strada difficile in cui in cui puoi correre il rischio di prendere luccele per l'alterne no tipo mi metto a meditare credo di meditare ma non sto meditando e questa diventa paranoia poi no come come io quel poco che ho fatto di mio perché ho cominciato a occuparmi di queste cose quando ero al liceo e all'epoca non c'era niente di niente e mi sono messo a fare pranayama esercizi per conto mio ho continuato a studiare a fare le mie robe di tipo orientale e non è che abbia fatto un percorso che mi dica che ho raggiunto qualche cosa però sono cose che diciamo l'idea di fermare la mente queste cose qui fanno parte un po' della mia vita quando mi serve come allora è un argomento vastissimo un argomento vastissimo ma soprattutto è che è paradossale per il pensiero dell'uomo occidentale perché ha bisogno di ragionare usando la logica e l'analisi mentre lì arrivi al punto che devi fermare tutto cioè il famoso aneddoto con cui concludo che era dell'allievo molto intraprendente molto intelligente molto studioso che va dal maestro Zen gli dice senta maestro ho finalmente capito che devo abbandonare il pensiero concettuale il maestro lo guarda e questo pensiero dove lo metti? cioè non devi neanche dirmelo finché me lo dici sei ancora prigioniero del pensiero del pensiero concettuale delle volte nello Zen hai degli aneddoti che sono sono proprio radicali non ti lasciano parole non ti lasciano quindi c'è molto da dire anche in dottrine diverse sul fatto di abbandonare il pensiero concettuale fermare la mente per percepire la mente se volete concludo con una metafora che uso a volte in ipnosi quando devo fare un lavoro di tipo metacognitivo allora tu guarda paragona la tua coscienza a una pellicola cinematografica ok ci sono le impressioni le immagini che impressionano la pellicola no tu non sei le immagini e noi soffriamo perché ci identifichiamo con gli oggetti mentali che sono le immagini che impressionano la pellicola no allora adesso sposta la tua attenzione a quella sottile strisciolina di pellicola non impressionata fra un fotogramma e l'altro noi conosciamo solo le immagini perché viviamo di quello che riempie la nostra la nostra coscienza se tu cominci a vedere quella sottile strisciolina di pellicola vergine non impressionata questa è la mente lucida pura vuota per questo potente a fare qualsiasi cosa perché non è occupata da niente ma che un solo vacillare di un pecero te la fa perdere di vista proprio perché radicalmente è vuota ma noi siamo questo che poi riempiamo con le immagini ok grazie grazie prego bene se non ci sono altri interventi io ringrazio moltissimo il professor Enrico Facco tutti coloro che sono intervenuti a partire da Marcello Barison Davide Susanetti Adone Brandalise Silvia D'Urso e rimandiamo al calendario di progetto Archetipon per i futuri incontri e ancora mille grazie al relatore di questa sera anche per la generosità con cui ha replicato gli interventi chiosato aggiunto integrato quanto ci aveva già detto nella sua relazione buona serata a tutti e a presto e grazie a voi tutti per la pazienza no grazie a te Enrico perché è stata una bellissima conversazione grazie ciao Davide ciao ciao a tutti grazie mille arrivederci ciao arrivederci a tutti grazie grazie